Questa mattina Giulia Nova e le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione per liberare lo spazio dell'ex depuratore situato nella zona sud, occupato da diversi anni da un gruppo di giovani. La polizia locale, insieme a pattuglie della Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno provveduto ad allontanare circa una quarantina di ragazzi che in passato avevano occupato il campetto del Castorani. Durante l'operazione era presente anche l'assistente sociale incaricata di seguire una coppia che viveva dentro una roulotta all'interno dell'area, in una situazione di disabilità e bisogno. La coppia, che aveva trovato supporto nella comunità dei giovani occupanti, è stata anch'essa allontanata senza la possibilità al momento di recuperare i propri effetti personali. Una decisione annunciata da tempo dall'amministrazione comunale e l'area in questione, ricordiamo, è stata destinata ad un progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del PNRR. La vicenda del campetto ha diviso le forze politiche, la maggioranza di centrodestra che governa la città sostiene la necessità di ristabilire la legalità condannando l'occupazione, mentre altri gruppi politici riconoscono il valore sociale delle attività svolte da ragazzi, specialmente per coloro che si trovano in situazioni di particolare bisogno. Lo sgombero è iniziato all'alba e si è concluso senza incidenti.